E fino al 5 giugno, teatro di una mostra che racconta Frida Kahlo attraverso lo sguardo di Nicholas Murray. Ma anche trasportarla ai giorni nostri, inserendo una mostra nella mostra in collaborazione con Carla De Lara, che è l'artista contemporanea numero uno del Mexico. Voglio ringraziare a Italia che mi riceve sempre con molto amore, mi fa sentire come in casa. Sono Carla De Lara, siamo in Turin, in la Palastina di Calcia di Stupinigi, dove presentare oggi la mostra Anime Intrechat. Per me è molto importante che una exposizione di color come questa si muestre in altri paesi, per dimostrare al mondo tutti i nostri colori, la cultura, la vivacità. In questa mostra presento 10 obras di tinta e cera, dove possiamo vedere gli studi d'arte di Frida, come era il suo spazio personal, i sui obieti personali. Un retrato di i sui occhi in acrilico e high gloss. E stiamo presentando anche una colezione di NFTs, che è totalmente nuovo, questa colezione di Frida è meravigliosa. Grazie a tutti. Grazie a tutti.